cari amiche e cari amici buonasera la rottura con il mondo protestante rappresentò per la chiesa cattolica il più grave collasso sul piano dei rapporti di forza si perdeva il contatto non solo con una porzione importante d'Europa ma con la porzione d'Europa che stava attuando il processo di modernizzazione e quindi con potenze in ascesa come Inghilterra come la Prussia ma in una certa misura diremmo anche della Francia che resta cattolica ma sarà sempre un'alleata un po' altalenante della chiesa cattolica come vedremo ci sono momenti in cui la politica di Parigi segue un indirizzo obiettivamente laico indipendente dalla chiesa qualche volta addirittura in contrasto altre che invece vedranno Parigi fasi nelle quali Parigi sarà il grande protettore della chiesa in ogni caso questo è un primo grande motivo di declino si pensa a una cosa importante sino al tredicesimo secolo grosso modo la chiesa esercitava senza alcuna possibilità di concorrenza il monopolio delle della dimensione scientifico culturale scientifica rapportata ai tempi naturalmente i filosofi cattolici erano i filosofi dell'epoca e se è vero che nascevano le prime università a Padova a Bologna a Parigi però tendenzialmente si trattava di sedi che si è che svolgevano la loro attività di ricerca nel campo del diritto della medicina molto più raramente e sempre molto ai margini della filosofia ma questo arriverà un pochino dopo quindi tendenzialmente ancora al momento del concilio di Trento l'egemonia eh culturale del mondo cattolico è sostanzialmente fuori discussione con la riforma protestante e poi con la nascita degli stati nazionali inizieranno invece a formarsi sedi universitarie laiche e non solo per il diritto per la medicina ma per esempio anche nella nascente negli studi iniziali di fisica comincerà a esserci anche una filosofia laica ad esempio la prima grande insorgenza non necessariamente universitaria in questo caso ma comunque il primo grande filosofo dichiaratamente estraneo al mondo cattolico sarà Spinoza nel diciassettesimo secolo quindi man mano inizia e Spinoza potrà farlo e non fare la fine di Giordano Bruno il quale di Giordano Bruno per un certo momento cercò rifugio a Londra e a Venezia non a caso e Spinoza andrà meglio perché in Olanda prevalgono i calvinisti quindi si risparmierà quello che sarebbe accaduto se fosse rimasto a Roma quindi inizia a esserci una produzione culturale laica non necessariamente anticattolica come molti sostengono c'è una tendenza a riportare tutto al a una dimensione di filosofia dell'agnosi in funzione anticattolica ci sarà anche questa componente ma non solo questa quindi quel monopolio inizierà ad essere seriamente intaccato ciò non di meno è la chiesa cattolica resterà la più grande costruzione culturale del mondo ancora per almeno due secoli per tutto il secolo diciassettesimo e diciottesimo pensate solo una cosa pensate al barocco il barocco che è uno dei grandi capitoli della storia dell'arte è un'espressione artistica tipicamente cattolica propriamente cattolica che in qualche modo esprime una di una immagine della chiesa trionfante quell'aspirazione all'alto al cielo che le guglie gotiche sembravano suggerire verranno sostituite dalla pienezza delle grandi cupole delle chiese barocche che invece o anche di alcune grandi costruzioni immediatamente pre barocche che esprimeranno il senso della pienezza quasi il raggiungimento di quella dimensione di trionfo della fede della città di dio a questo però attenzione perché si aggiungerà anche un'altra cosa che però dice quanto la chiesa cattolica poi continua a pesare l'arcidescovo di bologna in questo momento mi sfugge il nome ma lo inserirò in commento teorizzerà una cosa che no non va bene il modello neorinascimentale troppo dichiaratamente aristocratico in cui le madonne assistono alla crucifissione del figlio mantenendo un atteggiamento fortemente composto quasi senza lacrime e gesù e i martiri subiranno il martirio senza esternare prova del loro dolore fisico no l'idea che viene suggerita quale no la l'arte cattolica visto che è la risposta in qualche modo alla scelta alla proposta protestante di abolire il culto delle immagini ma distribuire la bibbia alfabetizzare i fedeli poi i fedeli leggeranno la bibbia e no la chiesa fa l'esatto contrario la bibbia assolutamente no in mano ai fedeli tanto è vero che come vi ho detto le edizioni in lingua volgare delle bibbie saranno sempre regolarmente proibite solo quelle in latino e naturalmente capite che certo ci sono gli intellettuali laici non chierici che conoscono il latino ma comunque sono una minoranza non sono particolarmente organizzati non si azzardano a contraddire il magistero della chiesa in materia però in qualche modo bisogna mandare il messaggio e quale sarà il messaggio teologico della chiesa soprattutto dopo trento sarà il culto delle immagini rinnovato il barocco avrà ben presto una svolta proprio per il suggerimento dell'arcivesco paleotti di bologna l'idea sarà quella di una scelta di tipo realistico quindi madonne che soffrono verrà utilizzata la tecnica michelangelesca della torsione dei corpi per sottolineare la violenza della passione di Cristo perché l'immagine che deve giungere ai fedeli deve colpirli non solo nella mente nella vista ma anche nelle viscere i fedeli devono sentire la sofferenza di Cristo dei martiri della madonna in qualche modo questa sarà l'apertura a quello che poi verrà con Caravaggio con il realismo caravaggesco che per la verità non piacerà sempre molto alla chiesa beh insomma quando Caravaggio in una scena di grande realismo dipingerà la morte della madonna utilizzerà come modello quello del cadavere di una prostituta romana ripescata dal tevere e già in stato di prima decomposizione ora a parte questa immagine di un cadavere già avviato alla decomposizione ma comunque fatto di prendere immagine da chi da una prostituta che è affogata insomma comunque una prostituta per la madonna non fu accolta con eccessivo entusiasmo però di fatto inizia dalle viscere del barocco questa torsione di tipo realistico che poi avrà molti sviluppi in seguito ma per ora fermiamoci qui ora questo vi dice quanto la chiesa cattolica nonostante la perdita di tutto il nord Europa e resta una grande potenza dal punto di vista culturale resta ancora un punto di riferimento per quello che riguarda le attività di natura filosofiche ma con alcune iniziali con alcuni iniziali segni di decadenza di riduzione della capacità di produzione per esempio sant'ommaso sant'ommaso era sant'ommaso d'aquino era dopo un secolo in cui era stato tenuto in odor di eresia quest'idea di sostituire aristotele a platone ci mise un po' prima di passare però inizialmente era la lettura di sant'ommaso della sua poderosissima opera io ricordo quando andavo a trovare il mio padre confessore don caruso che aveva nella sua biblioteca la summa teologica che proprio in quel periodo stava uscendo credo dalle lezioni paoline ed erano 78 volumi una cosa che faceva paura solo a guardarla ecco no dal concilio di trento in poi non il modello non è più quello della controversia della discussione teologica e non ci sarà più tanto lo studio delle opere di sant'ommaso quanto la riduzione delle opere di sant'ommaso a manualistica insomma il bignami dell'opera di sant'ommaso e la forma non sarà più quella della contestazione della contestazione era il confronto cum testatio con i testi no sarà la tesi affermata attraverso la manualistica tomista un rigoro un sostanziale passo indietro nella capacità di produzione filosofica e teologica della chiesa ecco questo è già un segnale altri ne verranno per la verità alcuni pontifici cercheranno un po di entrare in sintonia con la modernizzazione ad esempio chissà dove è finito va bene un volume che avrei voluto farvi vedere ad esempio papa lambertini già vescovo d'arcivescovo di bologna eletto papa con il nome di benedetto quattordicesimo sarà un papa molto curioso delle novi e stabilirà un rapporto di corrispondenza con volter e volter apprezzerà questo papa per le sue per le sue curiosità culturali beh quando io ero un giovane cattolico ricordo che lessi una storia della chiesa di hurtling che avrei voluto farvi vedere ma non ho qui sotto mano ma magari ve la farò vedere nei prossimi video nel quale nella quale non si parlava in termini particolarmente entusiastici di benedetto quattordicesimo ma si diceva che aveva concesso un po' trotte delicatezze a volter che poi risulterà nell'elenco degli indici proibiti e in questo tentativo diciamo diplomatico di riagganciare i rapporti con la cultura laica che andava formandosi in realtà la frase esplicita non combinerà molto giudizio più aspro dato su un pontefice da parte di una storia della chiesa di autore cattolico questo per dire come in realtà ci furono ancora dei fermenti nella chiesa che guardavano addirittura con qualche pontefice che cercavano di riguadagnare un rapporto con il mondo della cultura laica che stava crescendo ma che il grosso della chiesa rifiutò rimosse ancora per molto tempo il libro di cui ho visto parlando un libro scritto grosso modo negli anni 50 primi 60 del secolo scorso quindi sto parlando di una cosa molto recente la chiesa di fatto rifiutò la modernità in tutte le sue manifestazioni rifiutò il principio di sovranità nazionale rifiutò nettamente l'idea di l'autonomia della politica dalla fede macchiavelli iscritto nell'indice dei libri proibiti di fatto si creerà una situazione di cui non ci sarà l'immediata percezione anche perché non è che ci fu la percezione della stiamo facendo la modernità se per questo già nel medioevo gli abitanti di quell'epoca avrebbero detto noi siamo i moderni quindi in realtà ma quello che poi noi indicheremo come la modernità e sembrerà prendere una direzione di marcia esattamente opposta a quella della chiesa e quindi la chiesa rifiuterà il principio di autonomia della politica rifiuterà lo stato nazionale avrà una polemica costante contro da un certa epoca in poi contro la democrazia sarà sempre dichiaratamente anti rivoluzionaria già dai moti rivoluzionari del seicento dove a parte la rivoluzione inglese ci furono anche i sovvertimenti in boenia a napoli masaniello a lione e in altre zone del d'europa e la chiesa indicherà in questo il frutto diabolico della riforma protestante o comunque di chi non riteneva di doversi sottomettere all'autorità costituita in quanto tale in tutto questo un ruolo importante per quello che riguarderà beh non solo quell'epoca ma anche molto oltre fino a metà del novecento lo avranno come vedremo i cosiddetti papi di serie piana cioè i papi di nome pio e infatti ve ne ricordo qualcuno più quarto abbiamo visto è quello che sancisce il l'index librorum proibitorum estendendone la dimensione già stabilita da paolo quarto dal suo predecessore e pio quinto sarà il papa santo santio quinto il papa che conclude il concilio e che da cui vengono tutte le decisioni conseguenti a cominciare dal rito unificato della messa che la messa tradizionalista che oggi i settori tradizionalisti cattolici invocano quella in latino per intenderci è il messale di san pio quinto è il rito tridentino quindi la codificazione estrema aperta dichiarata in sede liturgica della separazione dal mondo protestante senza alcuna apertura verso gli stimoli che sarebbero potuti venire io posso anche capire che molte cose non convincessero molto la chiesa cattolica ma qui abbiamo una chiusura totale dopo san pio quinto più tardi un paio di secoli dopo c'era pio sesto papa braschi una figura di per sé emblematica perché sarà il papa che verrà arrestato dai francesi e tenuto in prigionia dopo la rivoluzione quindi in qualche modo molti lo considerano un martire della fede ovviamente potete immaginare cosa possa essere stato il magistero di pio sesto pio settimo papa della genga e pio settimo fu in qualche modo quello che restaurò lo stato pontificio anche grazie alla grande abilità del suo rappresentante diplomatico il cardinal consalvi che al congresso di vienna riuscirà ad ottenere non solo ricostituzione del dello stato pontificio cosa tutt'altro che scontata perché inglesi e prussiani erano assolutamente contrari a questo ma riuscirà ad ottenere che lo stato pontificio avesse esattamente gli stessi territori di prima quindi grande successo pio settimo in qualche modo sarà un pochino meno chiuso dei suoi predecessori pio e però sarà papa della restaurazione della restaurazione dopo il congresso di vienna pio ottavo non mette conto parlarne perché durò meno di un anno quindi non ha lasciato nessun particolare segno e poi venne il peggio pio nono il papa re il papa re più papare di tutti quanti che sarà dopo un brevissimo momento di un paio d'anni di apertura in direzione liberale sarà quello che si schiererà contro il risorcimento che ribadirà il ruolo dell'indice i libri proibiti aumentandolo a dismisura che porterà al concilio vaticano primo che sancirà l'infallibilità del papa unico concilio dopo quello di trento fino a quel momento poi si pensò visto che il papa è infallibile il concilio che ci fa e infatti non ci sarà più alcun concilio fino per circa un secolo fino al concilio vaticano secondo che però attenzione mentre il concilio vaticano primo sarà un concilio di tipo dottrinale stabilirà una verità di fede il papa è infallibile il concilio vaticano secondo che alcuni avrebbero voluto come prosecuzione del primo che fu interrotto dal benefico arrivo dei bersaglieri a roma delle benemerite cannonate a piazza a portapia quindi venne interrotto per questa ragione allora l'idea era vabbè riprendiamo il concilio vaticano primo fu giovanni ventitresimo a volere una discontinuità sostenendo che il concilio non sarebbe stato dottrinale teologico ma pastorale ne parleremo e pio nono ovviamente sarà uno dei papi di serie piana più dichiaratamente antimodernista antidemocratico reazionario dopo e sarà il papa di maggior durata dopo san pietro perché durerà ben 32 anni in teoria sarebbe dovuto succedergli papa piuttosto anziano non giovane ma per una serie di giochi interni alla chiesa come vedremo verrà eletto leone tredicesimo papa pecci che per la vita non era propriamente un aristocratico veniva da una famiglia di alta borghesia imparentata con aristocratici e di cui adesso parleremo quindi dopo si ricomincerà con i papi di serie pia piana pio decimo santo dopo pio quinto un altro papa pio santo che come vedremo sarà il disastro per la chiesa cattolica quindi pio undicesimo il papa del concordato infine pio dodicesimo papa pacelli di cui pure diremo quindi come vedete la scelta del nome pio è proprio programmatica sono i papi che hanno avuto la maggiore reazione contro la modernità in qualche modo anche pio dodicesimo che pure a suo modo attuerà una sorta di modernizzazione selettiva per cui imporrà farà già già ci aveva pensato pio undicesimo a fondare la radio vaticana e grande uso ne farà pio dodicesimo che cercherà attraverso discorsi messaggi eccetera di dare una risposta anche a quei siti di carattere scientifico posti dagli sviluppi della scienza selettiva ecco qui bisogna capire una cosa bisogna capire che tipo di battaglia fanno i papi di serie piana e quelli che in qualche modo gli si affiancano la battaglia è quella per la chiesa sistema politico per la chiesa trionfante e infatti nasce più o meno in quest'arco di tempo il culto di cristo re in qualche modo sarebbe superfluo dirlo perché per un cattolico perché è evidente che in quanto dio cristo ma per la verità la trinità sarebbe avrebbe autorità regale su tutto il creato questo no cristo re ha un significato più direttamente politico intanto non implica tutta la trinità il titolo è riferito a cristo cioè l'uomo dio e cristo che il punto di riferimento della chiesa esercita una sua regalità sociale tuttora ci sono gruppi per esempio il sodalizio per la regalità sociale di cristo che troverete anche in web se la cercate troverete cattolico ultra tradizionalista al quale anche più dodicesimo sembra uno che ha pericolosi cedimenti verso la modernità ecco l'idea è quella della chiesa che deve avere una sua dimensione statuale la battaglia è quella per il ripristino della potere temporale dei papi e fino all'opera dei congressi di cui parleremo si batterà proprio per questo e infatti guardate che il riferimento a cristo re sarà presente anche in altre due occasioni politiche importanti nella rivoluzione messicana dove peraltro i rivoluzionari avranno un atteggiamento una reazione anticlericale molto forte e non pochi sacerdoti finiranno davanti al proteone d'esecuzione forse anche un po' esagerando e però nello stesso tempo i guerrigli i cristeros erano i l'equivalente in fondo dei sanfedisti napoletani combattevano il nome di cristo re e con la coroncina del rosario intorno al collo quindi il richiamo proprio all'autorità spirituale ma anche politica della chiesa è dichiarato aperto stessa cosa nella guerra civile spagnola nella quale la chiesa sarà parte organica del blocco delle forze nazionaliste suscitate dal corpo di stato di francisco franco a proposito devo ricordare che però a dirvi del di quanto fosse progressista il cardinal segura che era il capo della chiesa ispanica devo ricordare che fino all'ultimo il cardinal segura sospettò che franco fosse un emissario dei comunisti ecco fatevi un po i conti ecco la il culto di cristo re è proprio consustanziale alla destra cattolica che si batte con le armi non non con la predicazione naturalmente questo c'entra poco con la figura di cristo in quanto tale che non c'entra niente c'entra invece con una cosa perché l'idea di cristo re e siccome cristo non anche per chi si crede insomma non si manifesta apertamente la regalità di cristo viene esercitata da chi dal papa re ma va a sentire quindi la battaglia è tutta per ripristinare quel totato della chiesa di cui parlava fra paolo sarti ecco qui iniziano però i primi problemi seri beh intanto già la rivoluzione francese è stata un colpo piuttosto duro per la chiesa cattolica e per perché non si trattò solo di una rivoluzione politica si trattò addirittura di un tentativo da laico direi un po goffo di stabilire una nuova religione il culto della dea ragione con l'albero della libertà piantato e con i nomi dei mesi cambiati perché non potevano essere i nomi della tradizione e così come soffressi il culto dei santi eccetera eccetera Notre Dame trasformata in granaio e così via va bene questo al di là degli eccessi poi la chiesa riuscì a trovare un'intesa con la rivoluzione per così dire con il concordato napoleonico cioè con una rivoluzione che già era in una fase di normalizzazione per così dire e quindi in qualche modo però insomma lo shock rimaneva due papi arrestati uno morto in prigionia Paolo VI l'altro appena poco dopo essere stato eletto quando le truppe francesi arriveranno a Roma si sentirà intimare di rinunciare al potere temporale sulle province dell'Italia centrale e risponderà orgogliosamente non possiamo non dobbiamo non vogliamo venendo immediatamente arrestato poi dopo si riuscirà con Napoleone insomma a trovare un punto di equilibrio però comunque lo shock di due papi arrestati e insomma fatti prigionieri non era cosa da poco ma soprattutto inizia una cosa inizia il confronto con una certa effervescenza sia del mondo protestante sia del mondo delle scienze il mondo protestante inizierà a ad avere una sua nuova un suo nuovo indirizzo in Germania schleicher meicher teorizzerà il sentimentalismo il sentimento religioso una certa di forma di immanenza che come vedete arriva anche nella chiesa cattolica ma anche altri subiranno questa pressione e nasceranno i primi quello che verrà indicato come modernismo o però capiamoci gli autori che sto per citare non sono mai definiti moderni o modernisti adesso ne vedremo un po' però in qualche modo furono prodotti in parte dagli stimoli di questa effervescenza del mondo luterano dove si profilerà una teologia luterana liberale quindi già una parola inaccettabile per i cattolici liberale però ha del successo questa teologia ma ci sono altri fermenti che spingono quelli del mondo scientifico nascono nuove scienze l'archeologia già si pone il problema ma le scritture le sacre scritture confermano o smentiscono sono confermate o smentite dalle scoperte antropologiche e archeologiche per la verità spesso hanno confermato per esempio si è sempre dubitato che realmente sia esistito il procuratore della giudea pilato fino a quando non verrà scoperto nel primo novecento una lapide che parlerà del ruolo del proponsore pilato e quindi sarà confermata storicamente la figura di pilato ma anche altre cose o altre sono delle cose un po più incerte per esempio il diluvio universale beh il diluvio universale ci sono tracce per la verità non solo in europa o nel medio oriente ma di una catastrofe di natura ambientale anche in canada anche in india quindi qualcosa deve essere successo e probabilmente ci deve essere stato un evento climatico oddio mi sa che ci stiamo mettendo sulla stessa strada a giudicare a quello che accade col mutamento climatico ma comunque un qualche mutamento del genere ci deve essere stato e il problema è che non sappiamo né in che arco di tempo è avvenuto se è stato un periodo per esempio le glaciazioni avvengono contemporaneamente in tutti noi ma il contemporaneamente implica un arco temporale molto vasto ecco questo noi non siamo in grado di stabilirlo se c'è stato un grande evento climatico di quel tipo e contemporaneamente in tutto il mondo o si è trattato di più eventi del genesi legati a una mutazione climatica generale ma magari avvenuti nell'arco anche forse di qualche secolo questo non lo sappiamo in ogni caso molte scoperte archeologiche hanno confermato le scritture questo va detto altre volte invece le conferme sono state molte più incerte ma e quindi l'archeologia come si fa a non tenere conto e i protestanti iniziano a lavorare su questo la filologia e come si fa la storia perché fino allora va beh la storia è stata la storia sacra cioè la storia del piano di salvezza della divina provvidenza per gli uomini che a sua volta poi aveva si era un po integrata con la storia all'inizio con la cronaca delle dei regni e del dei pontificati dove ci si accerta della legittimità delle successioni però tendenzialmente la storia invece in senso più lato e comincia a manifestarsi più tardi qualcosa inizia nel seicento poi si culminerà questa ricerca con prudovico antonio muratori nel settecento e così ci sono tutta una serie di discipline che non possono essere ignorate e che alcuni cominceranno a teorizzare che fanno parte del come dire non sono direttamente diciamo strumentali all'interpretazione della delle sacre scritture che dipendono sempre dalla volontà di dio eccetera però possono essere scienze e di che tipo alcuni diranno ausiliari e altri diranno sei ausiliari nel senso che tu le usi in quel modo ma che hanno una loro indipendenza e cominciano a venire fuori ecco alcuni prodotti di questo come per esempio un teologo importante di estrazione anglicana si convertirà piuttosto alla chiesa cattolica più tardi diventando gesuita tirel con la y tirel è molto diciamo indirizzato in questo senso è uno di quelli che teorizzano che le scienze in qualche modo complementari hanno una loro autonomia non non debbono piegarsi al ai rettami della teologia stessa cosa ma con un indirizzo filosofico molto più complesso perché tirel ha un indirizzo più come dire storico in francia ci sarà un altro personaggio che seguirà questo indirizzo storico che sarà alfred de l'uasi qui ho un libro le origini del cristianesimo che lessi a suo tempo trovato nella biblioteca di mia zia quindi studiato per questo con molta curiosità con molta dignità e mentre invece ci sarà un altro personaggio come blanchard maurice no pardon maurice blondel scusate maurice blondel che però avrà un indirizzo più filosofico in questa revisione tutti questi stimoli non verranno accolti in modo particolarmente entusiastico dalla chiesa l'indirizzo filosofico di blondel che però ha una sua caratteristica l'indirizzo filosofico del mondo tedesco dove è evidente che il problema che si pone siamo ancora agli inizi è quello di come si fa a mettere d'accordo la fede con il kantismo e kant è un autore che pone le prove perché in realtà kant è il fondatore dell'agnosticismo perché se noi non possiamo conoscere il numero la sostanza ultima dell'oggetto della nostra ricerca neanche a livello materiale e beh figuratevi se possiamo conoscerla a livello di verità di fede tendenzialmente kant che non era diciamo estraneo alla cultura luterana però insomma propone questa lettura ed è quello che spingerà diversi esponenti del cattolicesimo tedesco a cercare e soprattutto del protestantesimo l'indirizzo del dei liberali luterani a cercare una verità in questo senso una possibile compromesso ma anche in italia ci saranno due modernisti importanti per la realtà un pochino dopo romolo murri che nei primissimi anni del novecento fonderà la democrazia cristiana attenzione non sto parlando dell'adc partito politico che verrà poi diciamo nel 45 resusciterà il partito popolare però assumendo il nome di democrazia cristiana questo non era stato possibile nel 19 quando era stato fondato il partito popolare perché la democrazia cristiana era in odore di resia il suo fondatore romolo murri era stato colpito dalla scomunica maggiore la scomunica vitando cioè colpito dalla scomunica doveva essere evitato dagli altri al punto che dovendo entrare in chiesa durante una messa la messa sarebbe stata interrotta fino a quando il vitando non uscisse burri poi verrà spretato in realtà si spretterà anche lui e diventerà parlamentare deputato del gruppo radicale però senza essere mai un indipendente di gruppo radicale e anche l'altro un po' più giovane Ernesto Buonaiuti che sarà la testa teorica del modernismo italiano per anche lui colpito da scomunica maggiore quindi ecco però guardate che in realtà forse insomma in parte gli italiani usano questo nome ma Tirel per esempio non mi risulta che l'abbia mai usato e anche Blondel come vedremo in realtà l'idea di un'unica corrente perché come vedete erano diversi indirizzi anche di campo disciplinare diverso ma a pensare che costituissero una corrente unica non saranno loro come vedremo sarà opera di Pio X ecco questo è il clima nel quale Leone XIII viene eletto Papa Leone XIII attenzione non è un Papa diciamo di restaurazione secondo me la scelta di un nome diverso da quello di Pio ha un suo significato aveva un suo progetto un progetto pastorale che però non aveva molto successo su Leone XIII c'è questo libro di Roberto De Mattei che io ho letto qualche anno fa perché è uscito non troppo tempo fa personalmente non mi ha convinto come chiave interpretativa però molti aspetti sono condivisibili in realtà Leone XIII tenta un'operazione non priva di intelligenza di recupero attraverso la pastorale di rapporti col mondo che ormai è estraneo la chiesa cattolica e allora cosa fa? Beh prima di tutto con l'enciclica Providentissimus Deus fonda la scuola scritturale cattolica capisce che non si può lasciare questo nelle mani dei protestanti occorre che i cattolici abbiano un loro studium e forma questo studium a Gerusalemme inizia quindi la spinta a studiare le scritture alla luce delle scoperte dell'archeologia dell'archeologia degli al dei testi del confronto con altri testi non canonici ma che comunque possono confermare o precisare diciamo elementi di ricostruzione storica ad esempio e questo è un problema che rivedremo più avanti tutti pensano che Cristo sia nato nell'anno zero perché è lui ed allora che si contano le cose gli anni prima di Cristo ante Cristo e dopo Cristo la grande scoperta del tempo lineare del cristianesimo per cui la storia parte dalla creazione del mondo o quantomeno dalla cacciata dal paradiso terrestre di Adamo e Deva arriva alla nascita di Cristo e poi prosegue fino a terminare nel giudizio universale quindi c'è un'unica linea di sviluppo temporale beh in questo però ci si è accorti di che forse c'è un errore che Cristo in realtà confrontare un po' alcuni documenti con la serie di proconsoli imperatori eccetera eccetera non sarebbe nato nell'anno zero ma nel 4 avanti Cristo quindi sarebbe morto non a 33 ma a 37 anni vabbè questo non è che cambi molto dal punto di vista non cambia granché dal punto di vista diciamo dottrinale della chiesa però è un segnale di come poi queste scoperte un po' hanno spinto a rettificare alcuni costi. Leone XIII non sarà solo il papa della providentissimus neus sarà il papa che per esempio cercherà di opporre agli sviluppi della filosofia cantiana dei protestanti cercherà di contrapporre il recupero del tomismo però attenzione intelligentemente notò che non si poteva riprendere il secondo tomismo quello dei trattati dei manuali dei bignami che riducevano il pensiero ma bisogna essere di cominciare a leggere San Tommaso e a leggerlo con occhio adatto all'epoca in cui si viveva in qualche modo rendere il tomismo spendibile in epoca moderna. Vedremo che questo avrà una serie di effetti anche molto imprevisti però tendenzialmente ci sarà questo rilancio del tomismo al contrario ci sarà una condanna di alcuni indirizzi per esempio l'americanismo perché negli Stati Uniti comincerà a venire fuori una teologia che cerca di mettere insieme che cercava di mettere insieme le verità di fede con il destino manifesto degli Stati Uniti, la nuova Arcadia che erano gli Stati Uniti e questo non piacerà molto il tredicesimo che condannerà questa cosa. Poi leone tredicesimo che attenzione papa che è durato praticamente è il quarto papa nella storia dei papi perdurata. Il più durevole è stato San Pietro con un po' più di 32 anni insomma. Poi viene Pionono con 32 anni appena toccati. Poi viene Giovanni Paolo II Voitiua che è durato 27 anni poi viene Leone XIII con 25 anni di regno e insomma non è proprio poco 25 anni è una durata. Di solito nella chiesa si ragioni in questi modi. I papi che hanno lasciato un segno sono quelli che hanno avuto un pontificato di almeno 7 anni. Quelli al di sotto dei 7 anni beh dipende di volta in volta ma in genere vengono intennuti i papi di passaggio, di transizione. Beh Leone XIII nel suo lunghissimo pontificato si diceva che i cardinadi pensavano di aver letto un santo padre e invece avevano letto un padre eterno. in realtà sarà un papa che riuscirà ad aprire una serie sostanzialmente tutto interno alla tradizione tridentina ma con significative aperture fra le quali molto significative saranno una certa riapertura attraverso la storia, la storia di realizzazione come qualcosa che attraversa la storia e anche la enciclica per la quale di solito viene ricordato anche a livello scolastico, l'enciclica sulla questione sociale la rerum novarum che un po' apre la chiesa su questo terreno, non c'è più la piatta accettazione dell'autorità costituita e si comincia a riconoscere i diritti dei lavoratori. Ecco qui però bisogna ricordare una cosa che è interessante, nel 45 se non sbaglio o fine 44 giurio Andreotti dirigeva il mensile azione fucina, il giornale della fucina, a un certo punto si scrisse una lettera con il nome, il nome de plume kamer kanna, un lettore che diceva beh ma scusate vogliamo discutere del perché il marxismo ha capito che bisognava affrontare in qualche modo la questione sociale anche se poi l'ha affrontata a modo suo già nel 48. La chiesa cattolica ha aspettato 45 anni, perché questo ritardo? E si voleva aprire un dibattito su questo, il futuro Paolo VI, Giovanni Montini probabilmente su suggerimento di Pio XII fece sapere che non era gradito questo dibattito e che quindi era meglio lasciarlo cadere e questo ci dice molto sul clima della chiesa del tempo. Comunque Leone XIII è stato il Papa diciamo di cauta innovazione, ancora molto tradizionale, certamente non disposto a fare marcia indietro su alcuna verità di fede, interno all'idea dell'infallibilità papale, che però già si stava rendendo conto del fatto che insomma l'idea di una restaurazione dello Stato pontificio che non ha mai smentito, però insomma probabilmente non era realisticamente praticabile e quindi un Papa politicamente molto dubbile, questo va riconosciuto, anche per questo non sono perfettamente d'accordo con il libro di Roberto De Mattei che lo assimila un po' troppo alla tradizione triventina, ci sono delle aperture che secondo noi vanno valorizzate ancora più di quanto vi lo faccio. Ecco, Leone XIII è il cautissimo tentativo della Chiesa Cattolica di uscire dall'assedio in cui si era cacciata da sola, l'index con quell'elenco di nomi che vi ho letto, che cosa significa? Significa che la Chiesa Cattolica si dichiara estranea alla cultura del suo tempo. Ora, che la Chiesa pensi di essere nel mondo, ma non del mondo, perché ha un referente divino, ci può stare, ma occorre che sia nel mondo. Una Chiesa che rompe con tutto quello che sta facendo la società in termini con il processo di modernizzazione è una Chiesa che si pone fuori del mondo, fuori della storia, quindi fuori del mondo. Leone XIII sia pure con molta cautela, questo un po' lo intuisce e cerca di reinserire, ma con molta cautela ben inteso. Vedremo come invece questo verrà totalmente raso al suolo dal suo successore, ma lo vedremo nella prossima videata. Grazie per avermi seguito e buonasera.